Con il Festival delle Vigne Metropolitane Napoli celebra il vino e le sue vigne. Tre giorni di appuntamenti sul territorio per conoscere un patrimonio unico. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma delle iniziative che si terranno da venerdì 23 a domenica 25. I napoletani e i tanti visitatori italiani e stranieri avranno la possibilità di scoprire tutti gli aspetti della realtà della viticoltura locale a molti sconosciuta attraverso visite guidate, workshop, spettacoli e degustazioni. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato l'assessore al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli, Enrico Panini. Napoli è dopo Vienna la città metropolitana che ha più ettari dedicati alla coltivazione delle vigne e quindi sarà una manifestazione itinerante che porterà i visitatori di vigna in vigna di esperienza in esperienza, sapendo che peraltro il vitigno è napoletano non utilizzando alcun innesto con viti americane può essere considerato quello più vicino all'identità e all'originità delle prime piantagioni. Quindi un'occasione di nuovo di grande qualità, di grande attenzione per premiare produttori che hanno messo insieme identità e passione, due elementi fondamentali per continuare la tradizione di Emozione Napoli. Grazie. 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 Grazie.